Siamo con Alberto Di Girolamo, medico e presidente dell'Associazione Medico-Chirurgica Libetana di Marsala, nonché già sindaco della città di Marsala, oggi responsabile di questo set-in che stanno facendo qui al Paolo Borsellino, all'ospedale di Marsala, per il fatto che l'ospedale di fatto non funziona. Sì, da due anni parliamo solo di Covid e non parliamo delle altre patologie che ci sono come prima e forse più di prima, perché l'abbiamo trascurato e non è ammessibile che 90.000 abitanti di Marsala Petrosino non abbiano un ospedale di riferimento. Già in provincia di Trapane avevamo il 50% dei posti letto necessari per poter curare le persone. Da quando c'è Covid abbiamo molto meno posti letto rispetto a prima e questa è una situazione inammessibile, inaccettabile, perché l'emergenza può durare qualche settimana, un mese, due mesi, ma hanno avuto due anni di tempo per poter fare qualche posto letto in più, un prefabbricato, un qualche cosa. Si sono inventato questo padiglione che dicevano nel dicembre del 2020, dicevano che doveva essere pronto a maggio del 2021 di 100 posti letto, siamo a luglio del 2022, vediamo... Forse hanno pensato che il problema poteva essere momentaneo, mentre il Covid ha dimostrato di modificarsi continuamente e di resistere? Allora, non credo che l'assessore pensava che non è momentaneo, perché c'erano gli scienziati che dicevano che noi dobbiamo convivere col Covid e ti ricordo benissimo quando l'assessore è venuto il 7 maggio nell'aula consigliare dicendo noi apriamo l'ospedale e in autunno, come tutti dicevano, avremo sicuramente... Quindi tradotto, mi stai dicendo che in realtà hanno promesso una cosa che non hanno voluto e saputo mantenere? Io non so se non volevano mantenere, non hanno saputo mantenere di sicuro, insomma, perché un qualcosa che doveva essere pronto presto, ed io avevo detto, ma tanti altri, fate un prefabbricato che in due o tre mesi lo hanno fatto nel resto d'Italia, non è possibile che in due anni non c'è un posto letto in più rispetto a quando è scoppiata la pandemia. Dico, questa è la mala realtà e noi pretendiamo di avere un ospedale attrezzato, efficiente, funzionante, come prima, che c'erano 130 posto letto che funzionavano. Faccio degli esempi, prima a Marsala, in provincia di Trapena c'era la chirurgia vascolare che non esiste più, prima a Marsala c'era la chirurgia della mammella, non esiste più, né a Marsala né in provincia di Trapena e potremmo continuare all'infinito. Prima si facevano tutta una serie di esame... Ma anche la diabetologia vedo che c'è un problema. Ma tutti hanno problemi, perché se l'ospedale non c'è, tutti hanno problemi e non è accettabile una situazione del genere. Quindi chiediamo al Presidente della Repubblica e a tutti gli altri di portare a termine velocemente il padiglione Covid, anche se non con 100 posto letto, con 40-50 posto letto, in modo da liberare Paolo Bossarino e farlo ritornare alla sua normale attività. Cittadino dico che non è giusto che una città di 100.000 abitanti circa sia senza ospedale. Questo solo dico, questo solo, che non è giusto. E che è una città che merita il suo ospedale. Io sono una cittadina, ma io ho bisogno di andare a Trapani per un controllo. Mio marito deve andare a Mazzara. Mazzara, Trapani, Trapani, Mazzara. Ma è giusto, secondo me, avendo un ospedale, che si tratta di un ospedale qua. E tenere tutti i reparti chiusi è una vergogna, è una vergogna. A me come cittadina, che mio marito ha bisogno ogni sei mesi di controllo, andare a sbattere a destra e a sinistra. Arrivano a Mazzara e mi dicono, no, no, devo andare a Trapani. E corro, adesso a sinistra. Ma è giusto? Secondo me no. Come stanno andando le firme qui? Sì, bene. Tutti i cittadini, anche ci sono le persone di Alcamo di Trapani, vengono appositamente per firmare. Perché l'ospedale è un servizio essenziale per tutta la cittadinanza. Quindi è giusto firmare sempre di più e queste firme verranno mandate al Presidente della Repubblica. Ridateci il nostro ospedale. Appello al Presidente Mattarella. 900 hanno firmato, arriviamo fino a 1000. Più firme aiuteranno questa petizione ad essere inclusa e verrà inviata al Presidente Mattarella. E ricordo che oltre ad una petizione cartacea c'è una petizione online che ha raggiunto ottimi risultati. Diciamo qual è? È www.change.org. Ridateci il nostro ospedale. Al Presidente, l'appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Ridateci l'ospedale di Marsala. Firmate anche online.